Il 15 novembre del 1952 il Consiglio Comunale di Macerata, facendosi interprete del sentimento popolare di devozione alla Madonna della Misericordia e accogliendo la proposta di un comitato cittadino che aveva raccolto 21.000 firme, deliberò di consacrare Macerata alla sua protezione e di porre ai lati dell'immagine collocata sulla facciata del Comune l'epigrafe Civitas Marie. Un fatto inconsueto per una civica amministrazione e denso di significato. Il giorno successivo, il 16 novembre, in Piazza della Libertà si svolse la cerimonia ufficiale presieduta dal Vescovo Silvio Cassulo e dal Sindaco Otello Perugini, alla quale parteciparono migliaia di maceratesi che inondarono tutta la piazza e le vie limitrofe. Quel fervore popolare, quella devozione, quel senso di servizio e di solidarietà nella guida politica e amministrativa della città, che aveva appena lasciato alle spalle le distruzioni e le sofferenze della guerra e che si apprestava ad affrontare un futuro incerto e difficile, sono stati ricordati durante discorsi ufficiali nel quadro storico delineato dalla relazione della professoressa Lucia Tancredi sul significato dell'affidamento di un popolo alla protezione della Madonna. Ha aperto i lavori il presidente Romano Mari, ricordando come Macerata sia una delle pochissime città al mondo ad essere dedicata a Maria. Come ricordò Papa Giovanni Paolo II durante la sua visita a Macerata e la sua breve sosta in Piazza della Libertà, ha detto il presidente del Consiglio, Civica Marie è un titolo impegnativo che dobbiamo ogni giorno confermare con l'ascolto, con la sensibilità nel saper cogliere bisogni e necessità e con uno stile di vita accogliente e collaborativo. Poi l'intervento del sindaco e del capo di gruppo. Infine Monsignor Giulio Dori, che ha affermato come il volto luminoso di Maria, è il più forte incoraggiamento per affrontare il futuro, è la migliore garanzia per misurarci con le prove del presente e la grande riserva di speranza che può sostenerci anche nei passaggi più ardui e difficili. Al termine della seduta, la firma dei registri d'onore del Comune e della Diocesi, a memoria della celebrazione e del rinnovato impegno della Civitas Marie.